Siamo Siamo ad Oristano, siamo venuti apposta per conoscere uno studioso di uno strumento particolare, particolarmente caro alla tradizione folcloristica sarda. Stiamo parlando delle Launedas, questa meravigliosa canna che è assemblata in una maniera particolare produce una melodia stupenda. Le origini di questo strumento, secondo gli studiosi appunto, partono dalla preistoria e arrivano fino ai giorni nostri. Andiamo a conoscere questo personaggio molto conosciuto e molto stimato ad Oristano perché ne è stato anche il primo cittadino qualche anno fa. Stiamo per farvi conoscere il professor Piero Orto. Professore buongiorno. Buongiorno. Ma questa passione per la Launedas come nasce? È una passione che ho avuto fin da bambino, una passione sopita perché non avevo mai potuto curare questo strumento. Successivamente poi mi fu regalato uno strumento e quando sono andato in pensione, avendo più tempo a disposizione, mi ci sono dedicato, ho approfondito e poi incuriosito. Ho finito per tuffarmi profondamente nell'analisi dello strumento al punto da riuscire a capire tutte le particolarità. È proprio questa struttura che noi siamo venuti a conoscere perché siamo abituati a vedere lo strumento utilizzato, suonato da grandissimi artisti, un nome a caso, Luigi Lai, ma ce ne sono anche molti altri. Qui ad Oristano c'è Tore Mancosu che è uno degli artisti che fa parte del gruppo dei Gianas, c'è Stefano Pinna di Cabras, lo stesso Sergio Balia che abita a pochi chilometri qui da Oristano, la frazione di Donigala. Come si compone questo strumento, professor Orto? Dunque, lo strumento è il risultato essere praticamente l'assemblaggio di tutti i flauti del Mediterraneo, che in sostanza dovrebbero essere tre, i flauti fondamentali. Il primo è il flauto europeo, citato da Benson. Chiedo scusa, Benson mi pare sia uno studioso danese che è stato il primo a mettere anche sul pentagramma la musica prodotta dalle Launeddas, è così? Sì, Benson ha studiato sistematicamente le Launeddas, individuandone tutte le particolarità, ha messo la musica sul pentagramma, però non ha approfondito l'aspetto delle origini storiche, cioè ha fatto dei riferimenti. Lui già intuì che le Launeddas fossero strettamente legate all'antico flauto europeo, però non aveva approfondito eccessivamente l'argomento. E io ho inteso approfondire proprio questo aspetto non curato da altri. Wes Benson, lo studioso danese al quale ha fatto riferimento Professor Ortu un attimo fa, è stato il primo a mettere sul pentagramma intorno alla 1950, se non ricordo male, la musica prodotta dalla Launeddas. E' interessante a questo punto, e il Professor Ortu sicuramente ce lo dirà, capire quale è stata l'evoluzione di questo strumento, perché è uno strumento povero, viene realizzato con la canna, una canna anche particolare. Ecco, c'è stata un'evoluzione, intanto vedo che ha in mano già qualche cosa che incomincia a portarci direttamente nel tema. Che cosa è questo strumento? Come si chiama? Allora, questo è Suvi Piolu o Pipayou, che tutti conoscono come strumento sardo, ma è il flauto europeo, in quanto è stato trovato a Corselette, viene chiamato anche flauto di Corselette. Corselette è una località vicino al lago di Ginevra, cioè un lago piccolo, un lago attiguo a quello di Ginevra. Nella Svizzera francese? Nella Svizzera francese. Lì è stato trovato un flauto in osso, che ha tre canne, tre fori sul lato anteriore e un foro su quello posteriore, che esprime cinque notte. Questo flauto, essendo fatto in osso, è stato datato al Carbonio XIV e si è accertato che appartiene al Neolitico, cioè 6.000 anni fa. Quindi già 6.000 anni fa praticamente si conosceva questo tipo di flauto e parte della scala musicale. Quindi è uno strumento tecnologicamente anche evoluto per l'epoca. E questa è la base praticamente della Launedda, perché la Launedda sarda, io la chiamo Launedda al singolare, perché Launeddas è riferito a più Launeddas. Infatti non abbiamo solo un tipo di Launeddas, ma ne abbiamo più tipi. Ecco perché si chiamano Launeddas. Il suonatore di Launeddas viene chiamato così perché ne suona tanti tipi, essendole Launeddas strumenti modali. Quindi si è evoluto lo strumento. Ha parlato un attimo fa il professor Ortu del flauto europeo. Diceva prima che probabilmente i flauti erano tre. Andiamo un attimino, tornando indietro nel tempo, perché si può definire l'Avo proprio della Launedda, questo flauto. Andiamo a conoscere anche gli altri. Prima di parlare degli altri, premetto che in effetti le Launeddas originarie si presume, e così io le ho ricostruite, fossero strumenti a scale parallele. Spieghiamo meglio questo concetto, professore. La Launeddas, cioè distribuendo le note su due ottave diverse, praticamente avevano le stesse note, però distanti un'ottava. Quindi è questo che ha creato praticamente l'armonia tipicamente sarda, che riproduce l'armonia del canto Atenores, che è ben più antico delle Launedda, si presume, perché prima dello strumento abbiamo la voce, che fu usata praticamente per la musica e per il canto. Tra l'altro questo nobilissimo e antichissimo strumento ha accompagnato e accompagna tuttora tanti aspetti della nostra tradizione. E' splendido il simbolismo che mette appunto il suonatore di Launedda al centro, intorno a lui si sviluppa il ballo, sul ballo d'undu. E questo è un aspetto che mi piacerebbe approfondire di più e poi entriamo magari nella parte più tecnica dello strumento vero e proprio, cioè come viene realizzato. Ma vorrei sentire dal professor Ortu come vede l'utilizzo dello strumento del suonatore al centro. E' un cerchio che si sviluppa intorno a lui, un cerchio di ballerini, tornando indietro magari a periodi molto datati, molto antichi, professore. Quindi parliamo di balli propiziatori, parliamo di riti. Sicuramente il suono delle Launeddas fu classificato come suono divino. Infatti nel riprodurre i nuragici il suonatore di Launeddas, cioè l'aulete itifallico di Itiri, che risale all'VIII secolo a.C., avevano riprodotto il suonatore con gli elementi distintivi maschili e femminili. Cioè attribuendogli il carattere della divinità secondo i canoni di allora. Praticamente il suonatore di Launeddas poteva essere saggio e sacerdote allo stesso tempo, oltre che anziano. E quindi poteva anche essere colui che celebrava i matrimoni, presenziava i riti particolari. Sicuramente il suono della Launeddas echeggiava all'interno dei nuraghi e intorno alle fonti nuragiche, dove probabilmente si celebravano anche i matrimoni secondo riti antichissimi, legati praticamente alla divinazione degli astri, degli elementi della natura, della terra. Infatti nelle fonti nuragiche noi troviamo che il betilo è immerso nell'acqua. L'acqua è l'elemento che caratterizza la continuità della vita. Il suonatore risulterebbe, per esempio, dagli iscritti di molti studiosi, praticamente celebrasse i matrimoni collettivi, dove i giovani, nudi, all'equinozio di primavera sembrerebbe ballassero il ballo sardo, il cosiddetto ballo tondo, e poi evidentemente si accupiavano e poi costruivano una nuova capanna. Questi probabilmente erano i modi celebrativi adottati allora, non come quelli moderni. Come avete visto, voi che ci avete seguito fino a questo momento, vi stiamo portando in un mondo fantastico quello della Launedda, lo strumento più antico conosciuto in assoluto in Sardegna. Ne stiamo parlando con il professor Piero Ortu, che è un appassionato, che coltivava questa passione appunto fin da giovane, ma che ha riscoperto in maniera prepotente, da qualche anno le costruisce e poi ci dimostrerà che sicuramente la sa anche suonare e noi lo ascolteremo. Seguitici perché il nostro cammino alla scoperta della Launedda prosegue. Quindi l'appuntamento è fissato alla prossima puntata di 37 gradi e mezzo. Mi raccomando, continuate a seguirci sempre su Teleregione Sardegna, chiaramente.